Ottobre Rosa è una tradizione che si rinnova a livello nazionale che nel nostro territorio viene portata avanti da Golden Brain e l'Ilt con tutta una serie di iniziative che vedono anche l'appoggio di Coffcommercio. Sì, assolutamente. L'associazione culturale Golden Brain nasce proprio per supportare le fragilità, particolarmente le fragilità femminili e anche quelle dei bambini a livello fisico, psicologico ed economico. Il primo progetto che abbiamo seguito e che abbiamo sposato è stato Movis che sul territorio delle Marche è molto conosciuto proprio a livello oncologico e in questo Ottobre Rosa non potevamo mancare. La nostra prima partecipazione è su 30 giorni perché abbiamo iniziato gli anni precedenti con la camminata Flaminia Rosa. Quest'anno saremo presenti su tutto il territorio Pesaro, Fano e Urbino proprio con tanti eventi. In ogni evento ci sarà la partecipazione delle attività commerciali, delle palestre, quindi un supporto del territorio, la rete che ci serve, che serve a tutti per poter parlare, informare, sensibilizzare alla prevenzione che ancora oggi è uno degli elementi in assoluto fondamentali per poter davvero ridurre quest'incidenza del tumore alla mammella ma soprattutto la prevenzione sappiamo che ha una ricaduta sulla salute e anche a livello economico sulla spesa sanitaria. Non ci dimentichiamo che anche quella è una voce importante. Noi andiamo a supportare e a collaborare per coinvolgere Fano, Pesaro piuttosto che Urbino con tutto il discorso commerciale per poter veramente sensibilizzare la nostra comunità, quindi avere rispetto della nostra comunità perché nel tempo deve essere un lavoro proprio propedeutico per riuscire a far capire che la prevenzione è fondamentale nella vita di una donna ma nella vita di tutti. L'obiettivo di queste campagne di prevenzione è proprio quella di sostenere e sensibilizzare le donne ad avere consapevolezza di quanto sia importante prevenire il tumore al seno. I tumori di piccole dimensioni possono essere trattati chirurgicamente, non necessitano di interventi invalidanti, questo vuol dire non solo una maggiore chance di guarigione ma anche dal punto di vista estetico un successo terapeutico per la donna. Quello che noi sappiamo è che la sopravvivenza inoltre è migliorata nel tempo come anche la mortalità è migliorata nel tempo nel senso che si è ridotta di numero. Questo perché? Perché grazie allo screening che va a scovare i tumori di piccole dimensioni, grazie ai successi terapeutici con la radioterapia sempre con tecniche migliorate nel tempo e i nostri farmaci chemioterapici, parlo da oncologo perché sono anche direttore dell'oncologia dell'area Vasta 1, ospedale di Urbino, quindi con i nostri farmaci riusciamo anche a guarire una maggior proporzione di donne. Prevenzione non è solo screening, non è solo mammografia, ma è anche visita senonologica, imparare a capire come è fatto il proprio seno, quindi autopalpazione, l'autoesame. Le donne dovrebbero tutte imparare a fare questo tipo di esame. E poi prevenzione vuol dire anche conoscere i fattori di rischio e cercare di eliminarli. Prevenzione vuol dire tante cose, non solo mammografia e questo è il messaggio che noi vogliamo dare a tutte le donne in questa campagna Lilt for Women che quest'anno vede la collaborazione e comunque l'appoggio della Golden Brain perché c'è proprio bisogno di sensibilizzare tutte le donne. Un altro dato sulla prevenzione, sugli screening mammografici circa l'83% delle donne marchigiane fanno una mammografia o perché aderiscono allo screening o perché organizzano in autonomia l'esame. Questo significa che nella fascia di età tra i 50 e i 69 anni c'è un 17% di donne che comunque la mammografia non la fa. E quindi questo è anche un altro dato su cui riflettere, quindi cercare di invogliare e di portare le donne alla prevenzione al di sotto dei 50 anni ma cercare di sostenere tutte le donne in fascia di età 50-69 anni a sostenere l'importanza della mammografia. Non ultimo il discorso degli over 70, questo soprattutto perché l'aspettativa di vita è notevolmente migliorata nel tempo, la qualità di vita anche, l'età media delle donne si è alzata notevolmente, quindi un pensiero anche alle donne oltre i 70 anni quando smettete di ricevere la cartolina per lo screening mammografico ricordatevi che la mammografia ogni due anni è importante anche per voi.